allora sono qui a casa di antonella che sto cercando di capire se ci sono delle presenze in questa casa in questa stanza virtualmente come di solito faccio fatto tantissime indagini virtuali vedete che usa una telecamera infrarossi l'ambiente riprodotto al 100 per cento in modalità reale e quindi le presenze riconoscono che io sono lì con loro e di solito ti danno confidenza oppure comunque si fanno vive in qualche maniera io non so di preciso chi possa esserci qui dentro quindi comincio intanto a fare qualche domanda io sono venuto in pace sono stefano del gruppo grp faccio queste indagini paranormali da parecchi anni e sono una persona buona non farò mai del male a nessuno quindi se volete farvi avanti qualcuno di voi darmi un cenno della presenza di qualcuno o comunque qualcosa per la quale io possa capire che qualcuno qui dentro c'è guarda c'è uno strumento appoggiato là sopra vedi vicino a quel quadro col cuore lo strumento lì si chiama t1 il t1 se ti avvicini tu presenza che sei qui in questa stanza con lo strumento si accende lampeggia e fai accendere quella lucina se non usa qualsiasi sistema ti possa venire in mente va bene vediamo se si vede qualche movimento se c'è qualcuno io già ho visto qualche cosa lassù nella porta sopra la mia testa a sinistra un piccolo movimento forse energia vagante forse energia vagante comunque se ci fosse qualcuno mi potrebbe dare conferma tramite quello strumento t1 o in qualsiasi maniera di venga mente c'è del movimento quel quadro lassù vicino al cuore sei te che fai questi movimenti è un sei un energia locale ambientale si vede nel quadro si vede muovere qualcosa comunque se c'è qualcuno accendete in questo t1 che lì sopra quello con la lampadina bianca ok datemi una conferma se c'è qualcuno qui dentro eccola se acceso t1 15 qualcuno dammi ulteriore conferma per riprova c'è qualcuno qui dentro c'è qualcuno qui dentro e sono contento contento no però insomma ora quando ho scoperto che siete sarò ancora più contento allora siete parenti di antonella qualcuno di voi parenti di antonella non sono parenti di antonella è già qualcosa nello sappiamo già in anticipo che non è un parente siamo sicuri non siete parenti quindi se qualcuno di voi apparente di antonella mi accenda la lucina il t1 no siete più di uno tanto voglio sapere questo se siete più di uno dammi un sì siete più di uno ora cercherò di capire intanto quanti siete siete più di uno siete cinque siete quattro quando dico il numero giusto mi raccomando accendetemi t1 è siete tre tre siete tre e riconfermo un po un'altra volta se siete in tre siete in tre vabbè ora faccio altre domande per capire un pochino meglio allora siete femmine qualcuno di voi è maschio mi danno conferma qualcuno di voi è maschio siete in tre quanti sono i maschi due quindi uno no due no siete tutte e tre maschi siete tutte e tre maschi datemi qualche segno dalla vostra presenza un po più definitivo perché con il t1 e basta possiamo solamente rispondere ho visto qualcosa da vicino alla borsa sulla destra nella parete tipo un una nuvola di energia che saliva eravate uno di voi qualcuno di voi ha fatto questa specie di nuvoletta di energia era qualcuno di voi potete farmi qualche altra cosa per una conferma non lo so spostare un oggetto ce la fate ci riuscite a spostare un oggetto ci riuscite a spostare un oggetto ora io non so quale non vi dico però se proprio vi riesce spostatemi un oggetto vediamo se qualcuno di voi ha energia a sufficienza non ho visto niente spostarsi spostatemi questo oggetto per piacere arca ho visto avete spostato il cuore l'avete duplicato me lo rifai ancora con quel cuore che è lassù sullo specchio wow riuscite a duplicarlo porca miseria ma qualche altra prova un'immagine vostra ce la fate a darmela io ho visto qualcosa nella porta nello scuro della porta a sinistra sopra la mia testa ma di te che passavi ti fa rivedere un po qualcosa c'è eccolo la chi sei è andato di là o è andato in quell'altra stanza sentite che parlavi con me visto che siete in tre perché parlavi con me sei qui da sempre no non sei qui da sempre se è venuto in questa sede ecco quindi questa non è la tua sede giusto hai sede da qualche altra parte no sì e perché ti trovi in questo posto sei stato chiamato da qualcuno ma è uguale per tutte e tre questa storia siete venuti insieme ma perché siete venuti tutte e tre insieme scusa che storia strana però spingi la lucina e se la lasci sempre accesa bravo dunque siete venuti qui tutte e tre avete fatto di questo posto il vostro ambiente e la vostra dimora momentanea giusto allora mi diceva però antonella che magari gli date un po fastidio ma perché siete cattivi o perché volete farvi notare in qualche maniera vi faccio le due domande siete anime buone siete buoni come come anima positivi siete buoni positivi tutti e tre tutti e tre positivi e quindi il fastidio che date a antonella è solo per farvi notare per farvi notare ma avete bisogno di aiuto in qualche maniera per potervene andare via passare oltre magari avete bisogno di aiuto questo è un sì quindi avete bisogno di aiuto è però l'aiuto vostro come si fa a darvelo un problema ci vorrebbe un chiaroveggente se siete un medium qualcuno che vi dà una mano lì nella dimensione astrale dove siete ora non c'è nessuno che può aiutarvi nella dimensione astrale senti ma che cosa ti farebbe comodo per andare in pace te e gli altri una benedizione di un prete potrebbe bastare? non basta delle preghiere vedete per voi? non bastano nemmeno quindi ci vuole l'intervento di un medium? di qualcuno bravo? eh ma dove lo troviamo? siete rimasti incastrati in questa dimensione per colpa di qualcuno? eh io non so che cosa hanno combinato qui a casa a casa di Antonella non so che cosa è successo dunque queste persone sembra che non abitano qui siano venute e abbiano fatto questa casa alla sua dimora momentaneamente ma perché sono stati chiamati o comunque è successo qualcosa in questa casa e loro sono rimasti intrappolati qui sentite ma è stato aperto un portale un canale quando siete arrivati? è stato aperto un canale che ora è chiuso giusto? non mi conferma se è chiuso? il canale da dove siete arrivati è chiuso quindi bisognerebbe fare l'inverso ricreare eh quell'accadimento che c'è stato in questa stanza in questa casa per far sì che voi ve ne ritornate via dalla porta dove siete entrati giusto? eh ora io sentirò Antonella che cosa è stato fatto in questa casa se è una seduta se è un rito qualcosa bisogna ripeterlo per fare in modo uguale uguale a come è stato fatto la prima volta che si apra la porta per far ripassare voi nel posto dove state perché siete rimasti intrappolati in quanto secondo a quello che ho capito io vi si è chiuso il tunnel il passaggio ridammi conferma se vi si è chiuso il passaggio passaggio chiuso bene così bisogna eh Antonella bisogna ricreare quello che è successo prima ma va rifatto di succedere un'altra volta perché questi signori possano andarsene via ma voi siete buoni ma date fastidio solo per farvi notare ma avete detto? vi da conferma? ecco quindi ehm infastidite Antonella e gli fate delle qualche cosa per farvi notare e per fargli capire che ci siete voi giusto? questo è un sì sono persone buone però hanno bisogno d'aiuto e ehm per andare via secondo loro bisogna ricreare l'evento che l'ha portati qui io a sto punto non potrei fare nient'altro perché non sono un medium non sono un chiaroveggente non so quale evento va portati qui lo chiederemo ad Antonella e gli darò dei consigli su come riaprire il portale da dove siete arrivati e ve ne potete passare dall'altra parte ma passare oltre non se ne parla? c'è modo di farvi passare oltre? sembra di no la luce bianca la vedete da lì? la luce bianca la vedete? la luce bianca la vedete? è una luce bianca dentro un tunnel giusto? quella dove si passa oltre la vedete? la vedete però siete rimasti intrappolati da un evento è così? dammi conferma? bene la storia è facile sono tre personaggi tutti e tre maschi sono arrivati in questo posto a causa di un avvenimento un evento che è stato creato in questa casa e poi si è chiuso il passaggio non possono uscire andare dall'altra parte per poi passare oltre quindi bisogna ricreare l'evento che l'ha portati qui io non so qual è perché si possa riaprire il passaggio e loro se ne vanno tranquillamente da questo luogo speriamo che abbia capito tutto io penso di sì non è complicato fare un'indagine del genere ormai le faccio talmente da tanti anni che rimane facile mi sembra una cosa che fa tutti i giorni sentite io vi saluto vi ringrazio della collaborazione e speriamo che riusciamo a trovare la soluzione volete salutarci? con la lucina? oh grazie mi fai rivedere il trucco del coso? avevi spostato il cuore che è un cuore quello lì? sembrerebbe un cuore mi fai vedere come ha fatto? wow ma come fai a duplicarlo a quella maniera lì? intervieni sulla materia? intervieni sulla materia senti ma ti fai vedere magari in controluce là nella porta dove c'è lo scuro secondo me lì riesci a farti vedere un po' meglio ti fai vedere da qualche parte? l'ho visto sa? e gli altri che fanno? stanno zitti ti intravedo qualche volta lo sai che qualche volta ti intravedo? senti ma farti vedere un pochino più vicino a me? che ne so vedi qui sulla destra c'è un qualcosa di appeso sembra una borsa poi c'è un bastone appoggiato al muro in quella zona lì? riusciresti a farci un passaggio? fai un po' vedere se ci riesci non mi spaventa però eh? mi sa che ti vedo eh? wow t'ho visto eh? t'ho visto senti io ti ringrazio tantissimo della collaborazione vi saluto a tutti e tre a quanto ho capito eravate tre anzi se vuoi riconfermarvelo riconfermarmelo che siete in tre me lo riconfermi? ok nel t1 me l'ha confermato grazie di tutto un abbraccio grande da Stefano ricercatore del gruppo GRP riferirò a Antonella quello che è successo gli farò vedere questo video e vediamo come si può risolvere questa situazione grazie e ciao a tutti grazie 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 sono venuto in pace e me ne vado via in pace e vi benedico ciao a tutti eccola che saluta bene io ho finito chiudo qui questa indagine tanto sapete che le indagini vanno a durare massimo un quarto d'ora perché poi le presenze finiscono l'energia che hanno e si perde il contatto quindi ho fatto quel che potevo grazie ancora a voi anime che siete qui dentro un saluto un abbraccio da Stefano staccherò la live ciao 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 ciao